Beni per 4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a un'organizzazione criminale attiva dal 2008 nel Vallo di Diano, nel settore della commercializzazione delle auto, e collegata con la Germania, da dove importava auto di lusso. 8 persone sono indagate dalla Procura di Sala Consilina nel Salernitano per associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio, usura e frode fiscale. L'operazione nasce da un'inchiesta sul mercato delle auto di lusso e di grossa cilindrata e da un'arrogatoria internazionale della Procura tedesca di Stendhal nella ragione della Sessionia a Nalti in Germania. Tra gli indagati figura un imprenditore del Vallo di Diano che, approfittando dello stato di necessità economica dei propri clienti, faceva firmare loro falsi contratti di acquisto di auto che successivamente tornavano in concessionaria con un valore di mercato sottostimato. Dalle vittime l'uomo si faceva dare in garanzia segni postdatati che alla scadenza costringeva a rinnovare maggiorati di interessi usurari. Su richiesta della magistratura tedesca, che ha inoltrato un'arrogatoria internazionale, i finanziari hanno poi accertato la provenienza illecita di altre auto commercializzate nel Salernitano che sarebbero state sottratti legalmente alla concessionaria tedesca in fallimento da un imprenditore che risiede in Germania.